ciao a tutti bentornati nel mio canale sono miss giulia questo è un unboxing del sito di bbcraft questo è la bolla di tutti i prodottini che ho scelto ho scelto esattamente 8 prodotti adesso già ho scartato il tutto il pacco mi è arrivato sempre in 14 giorni lavorativi e adesso vi mostro cosa ho scelto vi ricordo che nell'info box vi inserirò tutti i prodotti ovviamente che ho selezionato allora parto per mostrarvi questa box io ovviamente già ho scartato tutto per evitare di fare rumore o altro questo è il codicino ho preso queste gocce misura 12 per 8 mm e sono in diverse tonalità un attimino che apro la scatolina eccoli qui sono davvero delle bellissime colorazioni come vi dicevo la misura è 12 per 8 e sono esattamente 240 pezzi queste sono tutte le nuanze cioè celeste il verde e rosso ci sono un bel po di colori sono belli luminosi infatti anche bene sono tagliati bene qui in alto vedete io non vedo l'ora anche queste di utilizzarle questo è il primo prodotto che ho scelto poi il secondo prodottino sempre in vetro ho preso questi cipollottini misura 4 per 3 mm questo è il codicino sono dieci fili e sono dei fili ovviamente lunghissimi perché già li ho già ho spulciato eccole qua questi sono i fili vedete sono davvero lunghissimi i colori sono questi qui c'è il nero c'è i due tonalità di viola una più chiara e una più più intensa c'è questo rosa il celeste il crystal l'ambra questo emerald questo blu cobalto e il nero e poi anche questa sorta di grigio fumé davvero molto molto belli e dicevo questo qui la misura è da 4 per 3 millimetri le metto di nuovo all'interno poi sempre in vetro ho scelto anche queste ovaline questo il codice misura 6 per 4 mm sono sempre dieci fili i prezzi ovviamente sono ottimi vi consiglio di guardare il sito di bibi craft poi ovviamente al raggiungimento di 25 dollari le spedizioni sono gratuite quindi vi consiglio di guardare tutti i prodotti specialmente anche la sezione dei saldi delle promozioni perché molte volte tutto questo che vi sto mostrando qualsiasi qualsiasi materiale viene messo appunto in offerta questi sono dicevo 10 file sono sempre molto molto lunghi eccoli qua molto luminosi questi sono esattamente in sempre in vetro in vetro galvanico in a b 10 fili e su ogni filo ci sono all'incirca 72 pezzi sono davvero belle queste ovaline i colori sono questi sperando che mette a fuoco il telefono eccoli qua c'è il cristal il verde il rosso il nero c'è sempre questo viola tenue questo celestino e questo blu cobalto davvero molto molto belle poi fanno tanti tanta luce e queste erano tutte le cosine in vetro che ho scelto quindi a voglia a lavorare sia con le gocce sia con i cipollettini e sia ovviamente con le ovaline poi per quanto riguarda le cosine in metallo ho preso questo set questa box qui questo il codice sono in acciaio inossidabile 304 e sono esattamente delle catenine delle catenine che già all'interno sono delle catenine lunghe 45 centimetri luna e hanno già sia il moschettone e sia l'anellino cioè sono sono finite volendoli si possono utilizzare aggiungendo qualche ciondolo come pendente ecco c'è sia in acciaio ripeto con tutti quanti in acciaio inossidabile c'è sia con oro poi ovviamente argento e c'è anche l'oro rosa adesso ve li mostro parto per mostrarvi queste qui in oro ovviamente dopo le aggiusto perché così se non mi si aggrovigliano tutte come vi dicevo vedete c'è sia il moschettone su ogni catenina e anche ovviamente l'anellino eccolo qua se ci riesco eccolo qui l'anellino appunto per agganciare il moschettone la catena è molto sottile luminosa sono davvero soddisfatta molto molto carina fine ed elegante vedete la maglia è fatta in questo modo ovviamente queste erano tutte quelle oro dopo le aggiusto perché così non le posso non le posso vedere devo aggiustare una singolarmente in ogni pacchettino poi queste qui sono quelle lì argento anche questa la catena molto sottile luminosa ma anche questa sempre con il moschettone e l'anellino dall'altra parte aspettate sempre se non riesco ecco qua c'è appunto l'anellino e il moschettone e adesso vi mostro anche quelle lì in oro rosa sono esattamente 24 fili c'è 8 per ogni colore questa è in oro rosa eccola qua ci sono riuscita eccola qui anche questa molto carina la catena è sempre uguale per per tutte le tre nuance ed è la trovo carissimo perché fine ed elegante aspettate che ti metto il tutto all'interno ok e poi ovviamente vi danno anche questa scatolina in plastica per contenere tutte le le catenine carinissima questa bella straconsiglio e se non erro che non veniva neanche tanto adesso non ricordo il prezzo preciso però il prezzo era basso allora poi ho preso questi cuoricini sia i perni e sia i pendenti vi mostro prima i perni per orecchino questo è il codice all'interno ci sono 10 perni per un totale appunto di 5 paia di orecchini ed è appunto a forma di cuoricino questi sono placati in oro 18 carati sono fatti appunto in questo modo c'è il foro qui in basso adesso li sto rimpendo in pronte sono davvero molto carini questi non hanno la farfallina però ripeto per me non è un problema perché ho un contenitore con tutte le farfalline in acciaio inossidabile sia dorato e sia in argento e poi vi mostro i pendenti questo è il codicino sono all'interno due pezzi ed eccoli qua sono davvero belli questi pendenti molto molto luminosi infatti non li mette neanche a fuoco talmente che sono luminosi un attimino provo ad allontanare ok eccoli qui sono davvero belli sono fatti in ottone con questi zirconcini sono nickel flea e come dicevo prima sono placati in oro 18 carati ve li mostro anche senza luce magari riesce a mettere a fuoco i zirconcini eccoli qua davvero davvero bellissimi questi pendenti li riprenderò sicuramente sopra c'è sia sopra che sotto c'è l'anellino e volendo si possono realizzare sia delle collanine ovviamente mettendolo uno per catena aggiungendo appunto questa catena qui oppure realizzare degli orecchini perché no con questi perni sempre a cuoricino li rimetto di nuovo all'interno della bustina poi ho preso questi stickers natalizi questo è il codice sono esattamente 10 fogli su ogni foglio ci sono 16 stickers per un totale ovviamente di 160 stickers tutti a tema natalizio con la scritta appunto Merry Christmas con Babbo Natale cioè sia rosso che verde ovviamente non ve li apro comunque si vedono che sono appunto 10 fogli questo è il codicino questi volendo si possono utilizzare sia per decorare le scatoline per le commissioni natalizie e poi infine ho scelto questo qui che è una macchina per cucire ed eccola qua questo è il codice eccolo qui questo è il codice appunto della macchina e non vedo l'ora di testarla perché era da tempo che la volevo un attimino che apro il tutto in dotazione c'è questo il libretto di istruzioni e ovviamente la macchina da cucire pluriball il libretto di istruzioni è in inglese però si riesce tranquillamente a capire io che sono un asino in inglese riesco tranquillamente a capirlo e poi in dotazione come vi dicevo vi arriva due bobine in queste due colorazioni oltre alla bianca che è già qui sulla macchina da cucire c'è questa rosa e questa sorta di color carne poi c'è questo che vi serve per andare ad inserire il filo all'interno dell'ago un altro ago in sostituzione e poi questo aggeggino che adesso non mi sonviene il nome che serve per andarlo a posizionare in questo punto qui la macchina è fatta in questo modo vedete qui c'è la leva che consente di spostare questa parte qui dell'ago vedete adesso la sto alzando questo tiene la tensione del filo poi c'è questo pulsantino qui che è il blocco questo infatti così non pigia la macchina ovviamente funziona con le pile le pile le dovete inserire voi infatti ho messo queste qui le due rachel e adesso vi mostro un attimino ecco qua in questo modo prendiamo il blocco e vi mostro come poi qui poi qui si alza vedete e potete tranquillamente riposizionare nuovamente la stoffa in questo modo e poi riabbassate di nuovo la levetta ok in questo modo vedete e poi ovviamente di nuovo il blocco per non utilizzarla io devo un attimo fare delle prove devo testarla per bene e poi vi dirò le mie impressioni allora rimetto tutto all'interno della ok ragazzi questo era tutto il materiale che ho scelto appunto dal sito di BB Craft come vi dicevo prima vi consiglio di guardare tutte le varie sezioni perché BB Craft molte volte mette tutti questi prodottini che ho scelto in promozione quindi andate a vedere a curiosare sul sito io spero che questo video sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino ovviamente seguiranno due tutorial in collaborazione utilizzando appunto questo materiale che vi ho appena illustrato vi auguro buona serata un bacione e alla prossima ciao